Per voi draffi! Aha! Ne ne vado! E' un po' di do. Prendi, la rebu. Un po' di. Un po' di. Un po' di. Un po' di. Grazie a tutti. 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 Prendiamo qualche cervello. Grazie a tutti. 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 Perché ci avete messo tanto? È stata una notte difficile. Tiger Klo è qui. Ha il super mutageno. Dov'è Neutralizer? Neutralizer? Non l'ho visto. Un attimo. C'è anche lui. Dovete sbrigarvi. Eccoci. Fermi. Tiger Klo è troppo potente. Vi ha già battuti una volta. Pensate strategicamente. Dovete anticipare le sue mosse. Prevedete i suoi attacchi prima che li esegua. Poi contrattaccate. È pericoloso, ragazzi. Fate... fate attenzione, ok? Ottimo consiglio. Grazie, April. Buona fortuna, io devo andare. Papà mi vuole a casa. Grazie a tutti. Fantastico! Sì. Questa è una fonte di energia ideale per l'arma. Dove l'hai trovata? Non sono affari tuoi. Shredder confida che tu stia rispettando i piani. Ma certo. Ora che ho il componente finale non ci vorrà molto. E funziona? La tecnologia delle Saramani è la più letale delle dieci dimensioni. Molto bene. Ci risentiremo. Fai con calma, lucertola. Le tartarughe non resteranno in giro a lungo. Dove sta portando il mutageno, Tiger Claw? Sapete perché fallite sempre? Perché non fate altro che parlare? Sì, team. Combattete. Arrenditi, Tiger Claw. Sì, team. C'è un progetto che si tratta di un progetto di un progetto. Non importa Neutralizer era nella dimensione X durante il nostro scontro Quindi ha avuto settimane per completare l'arma Con quella Shredder avrà il pieno controllo sul mutageno Potrà creare tutto quello che vuole Avete i giorni contati, tartarughe Dobbiamo andare nella dimensione X Forse il portale della TCR-I è ancora attivo Altro ninja? Ninjato! Altro ninja 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 E' piaciuto? 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 Grazie a tutti 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 Wow Grazie a tutti Fantastico Mi serviva Grazie a tutti Grazie a tutti Mangia tutto Grazie a tutti 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 Grazie a tutti